Si è insediato il Consiglio Comunale a Civitella in Valdichiana. In poco più di un'ora il Sindaco Ginetta Menchetti insieme ai consiglieri eletti hanno espletato le formalità di rito nella prima assise dopo le elezioni amministrative dello scorso 5 giugno. All'ordine del giorno il giuramento del primo cittadino e la nomina del Presidente del Consiglio Comunale. A dirigere i lavori dell'Assemblea è stato eletto Pierluigi Bacconi, candidato alle recenti elezioni amministrative nella lista Solidarietà e Progresso, uno dei pochi consiglieri in carica anche nel precedente consiglio. Elio Randellini e Valeria Nassini sono stati sceti all'interno della cerchia degli eletti, con quest'ultima che andrà a ricoprire anche il ruolo di Vice Sindaco. Per Randellini si tratta di una conferma visto che durante il primo mandato di Ginetta Menchetti ha ricoperto il ruolo di Assessore con Delega ai Servizi Sanitari. New Entry Andrea Tavarra, Varnesi e Ivano Capacci. Nel prossimo Consiglio Comunale sarà inoltre annunciata la decurtazione delle indennità che spetterebbero agli assessori. Una scelta portata avanti da Elio Randellini, Valeria Nassini, Andrea Tavarra e Ivano Capacci, i quali rinunceranno al 50% di quanto spetterebbe loro in base alla legge.